torniamo alla scuola di gesù con matteo voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli ti chiediamo o padre buono il dono della pazienza per imparare ad attendere che il seme da te piantato maturi e porti frutto aiutaci a non vivere di fretta ma a gustare ogni singolo momento riconoscendo come dono del tuo immenso amore prova la pazienza e l'umiltà del maestro avrai tanti fratelli e oggi prima della porta di casa saprei aprire il tuo cuore